Un settore pubblico efficiente produce un duplice vantaggio, da una parte riduce i propri costi, dall'altra migliora i propri servizi a cittadini e imprese, generando effetti positivi su tutto l'intero ecosistema. Perché ciò accada? Occorre avviare un grande processo di innovazione del settore pubblico, che sappia mettere al centro il cittadino, perché esso sia sempre più vicino alle sue esigenze e possa porsi al suo servizio. Il governo italiano ha già avviato molte attività, il piano di e-government, il progetto sulle reti amiche, la valutazione dei servizi della PIA, sono tutte iniziative che operano nella stessa direzione e che permettono di creare un settore pubblico più efficiente, più trasparente, più vicino alle aspettative della collettività. In sintesi è con l'innovazione che usciremo dalla crisi, ma è solo con una innovazione intelligente che creeremo le basi per il nostro futuro. Infatti solo con innovazione intelligente riusciremo a creare le fondamenta per il rilancio della nostra economia, trasformando l'innovazione in uno strumento per rendere più efficiente il nostro Paese e migliorare il dialogo tra centro e periferia, trasformando l'innovazione in un fattore abilitante per l'attrazione dei capitali e rendere il nostro Paese più attraente, più ecologico, più intelligente, ovvero più smart. Per spiegare l'importanza di un nuovo livello di intelligenza nel modo in cui il mondo funziona abbiamo creato in IBM il concetto di smart planet che caratterizza la nostra presenza a forum PA di quest'anno. La visione smart planet è la visione di una nuova sfida, andare al di là delle applicazioni tradizionali per far parlare tra di loro mondi che fino ad oggi non si sono mai parlati. Oggi tutti percepiamo la presenza di una quantità enorme di tecnologia nel mercato, ma il paradosso è che questa tecnologia talvolta sembra non funzionare. Ad esempio, ognuno di noi ha il navigatore in auto, ma spesso siamo tutti quanti fermi nel traffico. La sfida dello smart planet è questo, integrare oggetti, attuatori diversi, il tutto coordinato in maniera intelligente per dare valore alla collettività. Gli elementi chiavi della visione smart planet sono nuovi strumenti di analisi per estrarre conoscenza dalle enormi quantità di dati che un mondo più intelligente e interconnesso ci propone. Due, nuovi modelli di lavoro e di collaborazione per rispondere alle esigenze di relazione e comunicazione che la società oggi ci richiede. Tre, una infrastruttura sempre più integrata, flessibile e dinamica per rispondere alla sollecitazione del contesto. Ed infine, quattro, la sostenibilità ambientale, un tema che trova sempre più riscontro nei piani di sviluppo economico. La visione smart planet è la visione di una nuova capacità di gestire in maniera intelligente la tecnologia per avvicinarla agli utilizzatori e creare valore per la collettività. A livello di settore pubblico, la proposta IBM è di creare un'infrastruttura intelligente focalizzata su quattro priorità chiave, migliorare i servizi, eccellenza operativa, protezione e sicurezza e sostenibilità ambientale. In particolare, migliorare i servizi alla cittadinanza e all'impresa significa mettere a disposizione dei cittadini clienti programmi modellati sulle loro esigenze reali, in modo da migliorare la qualità dei servizi, la soddisfazione degli utenti e ridurre i costi e le inefficienze operative. Assicurare l'eccellenza operativa nella gestione delle risorse significa, invece, sfruttare le moderne soluzioni di business intelligence e di controllo di gestione per migliorare la gestione dell'infrastruttura, la comprensione dei fenomeni, le prestazioni del settore pubblico, mantenendo un elevato livello di trasparenza e di controllo dei risultati. Sul tema della protezione e la sicurezza nazionale, la visione Smarter Government propone di mettere la difesa e le forze dell'ordine in condizione di comprendere e gestire al meglio le diverse situazioni di crisi e pericolo per migliorare le loro capacità di reazione e la qualità del loro intervento. Sul tema, invece, della piena sostenibilità ambientale, bisogna fare in modo che l'intera pubblica amministrazione operi secondo logiche e modalità a basso impatto ambientale, dal contenimento dei consumi energetici, alla gestione dei trasporti, allo sfruttamento delle energie rinnovabili. In sintesi, operando su queste quattro priorità chiave, la pubblica amministrazione passa da una serie di microcosmi indipendenti e non collegati a un sistema coeso e fortemente integrato, aperto alle esigenze del cittadino e della collettività e del territorio sul quale insiste. L'Italia è in un momento di svolta, è l'occasione di rinnovare il Paese. Paradossalmente, i ridaldi del nostro sistema ci possono aiutare in due sensi, attenuando un po' i rischi ma soprattutto costringendo il Paese a cambiare come sistema. Smarter Town è la visione che IBM propone per aiutare le nostre città ad affrontare la sfida legata alla complessità dei sistemi urbani e mettere l'innovazione e la tecnologia a servizio del cittadino. Città è spesso sinonimo di traffico, inquinamento, sprechi, energetici, burocrazia inefficiente, insecurezza, precarietà ma è anche lo spazio nel quale si incontrano la buona amministrazione, il diritto del cittadino alla soddisfazione delle proprie esigenze. È il luogo privilegiato della partecipazione e della convivenza, della cultura e dell'istruzione. Molto spesso le iniziative avviate dalle singole amministrazioni riguardano direzioni diverse e mancano un disegno complessivo di un migliore sfruttamento delle risorse. Smarter Town vuole essere un contributo in questa direzione, un disegno globale, aperto, capace di mettere a regime integrandoli soluzioni e applicazioni già esistenti con nuovi interventi pensati e progettati su misura sulla base delle scelti e delle necessità delle comunità cittadine. Smarter Town è un sistema aperto e integrato con diversi livelli istituzionali e territoriali con il mondo dell'impresa e del lavoro. Al centro del disegno della Smarter Town, della città digitale, ci sono le esigenze del cittadino intorno alle quali ruotano proposte per soluzioni innovative come vivere la mobilità sostenibile, vivere la città sicura, vivere i servizi per i cittadini e le imprese, vivere i servizi interni, vivere il patrimonio naturale e culturale, in una parola vivere i servizi per tutti. Vi do appuntamento al nostro stand, al Forum PA, dove potrete vedere alcuni esempi realizzati intorno ai concetti di Smarter Government e Smarter Town.